Due parole su un piccolo gesso conservato nelle raccolte del mambo. Il gesso porta all'interno una piccola fotografia fatta in collaborazione tra me e Luigi Ghirri che rappresenta un edificio in crollo, cioè il ventre dell'edificio sostanzialmente. Il titolo del lavoro è Affreschi, parola aurica che rimanda a una tecnica antica e l'immagine della casa sventrata che lascia vedere, intravedere anzi, queste grandi campiture colorate sono messe in rapporto con la parola Affreschi in una sorta di chiasmo. Il lavoro è sostanzialmente una piccola edicola. Le parole le spendo per questo lavoro invece che per altri che sono conservati alla raccolta del mambo, proprio perché risale ai primissimi anni 70. È un lavoro giovanile che risente molto di un modo di pensare al nuovo con un sorriso, con una felicità. Ha quasi mezzo secolo questo lavoro, quindi in qualche modo mi è nata una nostalgia per qualcosa che si sta perdendo e ho ritrovato questo lavoro proprio in fotografie di recente e di quello mi piaceva spendere una parola.